Il Montesacchio ha raggiunto l'obiettivo storico, meglio di dire, per tre quarti l'ha raggiunto, si aspetta l'ultimo due gare per festeggiarlo definitivamente. Che gara sarà il San Francesco? Ma guarda, io non so a livello ambientale, so che troveremo tanti tifosi, questo è fuori di dubbio. Noi andremo a giocare sempre come abbiamo fatto, non sappiamo fare altrimenti, nel senso che non abbiamo mai gestito le situazioni, anzi questo non saper gestire ci è costato pure qualche punto, perché magari su qualche campo dove potevamo portare un punto la non gestione ci ha portato a perdere qualche partita e dove vincevamo magari l'abbiamo pareggiato. Quindi non sappiamo gestire i risultati, questo è un dato di fatto, quindi andiamo a giocare, si va sapendo della forza dell'avversario, ma sapendo anche che noi siamo una grande squadra che quando va in campo un'ora il calcio, a volte spesso gioca anche bene, quindi andiamo lì, se sono più bravi vinceranno e stringeremo la mano. Chi tifa per voi è il Sant'Agnello Sorrento che a ironia della sorte ha perso, se dovesse finire così, ha perso il campionato proprio contro di voi. Alla fine tirando le somme, indipendentemente dalla gara di domani, chi reputi più forte, il Sant'Agnello o il Città di Naceri? Paradossalmente io dico che il Sorrento è più forte della rocerina, qualcosa sarà successo senz'altro perché non si spiega come una squadra del genere possa non vincere questo campionato. La rocerina si è dimostrata una squadra che con l'avvento di Maiuri ha avuto una continuità impressionante, una squadra solida che non concede niente, una classica squadra di categoria, hanno cambiato modulo, hanno cambiato il sistema di gioco e da quel momento lì non ce n'è stata più per nessuno. Sono stati continui, a questo punto del campionato sono la squadra di eccellenza con più punti in Italia, quindi ci sarà un motivo. Però tecnicamente io credo che il Sorrento sia una squadra inarrivabile per queste categorie qui. Poi magari l'ambiente, i tifosi, lo stadio, oltre all'allenatore e alla rosa hanno fatto sì che la nocerina sia tre punti avanti. Per il resto sono due squadre, due corazzate che in eccellenza c'entrano poco. Chiudiamo con una domanda sulla formazione di domani. Abbiamo visto Clemente Mariano non allenarsi, Giulio Fusco che è rientrato nel gruppo, ha fatto anche qualche minuto la scorsa gara. Abbiamo visto anche Noviello nel gruppo. Chi rientrerà, indipendentemente da chi scenderà in campo, chi rientrerà in rosa, c'è qualche altro infortunato? Ma questa squadra ha dimostrato che chiunque va in campo lo fa bene e lo fa alla grande. Siamo andati a Scafati con sette undicesimi. Diciamo quelli che hanno giocato più spesso da titolare erano fuori, quindi chi ha sostituito ha sostituito sempre bene. Perdiamo Clemente Mariano, ritroviamo Signore, ritroviamo Fusco al 100%, Noviello è in via di guarigione. Quindi probabilmente Mariano Clemente va sostituito senza altro e credo lo faccia Signore, molto probabilmente Signore ritornerà al suo posto. Bisogna valutare un po' la condizione di Liguoro Davide, il terzino sinistro, perché con la partita con la Juniors ha avuto un piccolo risentimento e quindi non sappiamo se utilizzarlo o meno. Vediamo domani prima della gara, però a lunghi tratti la formazione è decisa e magari ci sarà solo questo avvicendamento di Signore per Clemente, molto probabilmente. Ci vediamo con una battuta finale, veramente l'ultima. 1x2, mi si afferrà, cosa giocherebbe? Dico la verità, io penso che se il Montesarchio indovina la partita non perde.